Chiuso il cortile dell'oratorio Don Bosco di San Giovanni Valdarno a spiegarci il motivo di questa decisione sono proprio i responsabili. Sono successe piccole cose, non è successo qualcosa di eclatante, ma preoccupava proprio questo clima generale che ci ha fatto capire che bisognava cambiare passo. Il passaggio importante da fare era questo, passare da un luogo dove si fruiscono dei servizi come può essere quello del calcio, del bar o di tutto o di quant'altro, a un luogo dove ci si diverte ma si cresce anche insieme. Quindi non era tanto il lampione o la finestrella che vengono rotte o lo sporco lasciato in giro, ma il perché prendersi cura degli ambienti e rispettare gli ambienti. Quindi in questo tempo stiamo cercando proprio di capire come passare meglio questo messaggio. Il 13 ottobre la pubblicazione su Facebook di un avviso importante, la chiusura dello spazio fino a data da destinarsi. Dieci giorni dopo, sabato 23, un lungo post dove l'oratorio spiega le ragioni della decisione presa dovuta ad alcuni atti vandalici. Ma gli operatori che tutti i giorni vivono con questi ragazzi non ci stanno a chiamarli bulli. Per noi questi ragazzi sono importanti, il ruolo educativo che svolgiamo in questo luogo per noi ha una valenza, anche perché per noi ognuno di loro ha un nome e un cognome. Il rapporto e la relazione che si è venuta a creare da quando abbiamo riaperto dopo il lockdown, i vari cambi di colore, insomma è sempre diventato più proficuo. Già oggi ci siamo sentiti di nuovo sia con il comune ma anche con le forze dell'ordine, c'è anche una bella collaborazione. Bisogna aumentare un po' anche questa collaborazione, cioè approfondirla. Abbiamo interpellato anche degli specialisti, quindi persone che si occupano di adolescenza, di adolescenti, per capire bene come voler bene a questi ragazzi. A tutto tondo, non solo con un atteggiamento buonista ma davvero educativo, poter imparare insieme a come volersi bene.